Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo tutorial Vaisigla Allora, oggi in questo nuovo tutorial vi farò vedere come creare nuovi progetti con Autoplay Media Studio e anche aprirne nuovi Allora, iniziamo subito con l'aprire il programma Allora, ci si presenterà questa schermata del programma Qui ci sono tre icone Noi dobbiamo cliccare su, per creare un nuovo progetto, create a new project Qui si aprirà questa finestra e avremo diverse voci Ad esempio, blank project, agreement, audio, che sarebbe un mp3 Un auto run, browser E ci sono tante installazioni, ad esempio, ci sono tanti template E noi decidiamo quale vogliamo aprire Ad esempio, che ne so Creo blank project Decidiamo il nome E qui anche possiamo scaricare altri template da internet Poi facciamo ok E creare il nostro progetto Questo è un tutorial velocissimo Di sicuro ci saranno altri Ci vediamo, ciao